Grazie al coordinamento di un pool di magistrati che sono specializzati nei maltrattamenti e nelle violenze di genere della Procura di Catania, abbiamo potuto così eseguire quattro ordinanze di misure cautelari interdittive nei confronti dell'amministratore unico e di tre dipendenti della struttura. La nostra attività di indagine condotta dalla stazione Carabinieri 10 Sant'Antonio ha permesso di far emergere gravi responsabilità a carico dell'amministratore e di alcuni dipendenti di una struttura di casa di riposo per anziani. Gli anziani ospiti della struttura, alcuni molto in avanti con l'età, venivano maltrattati in ogni modo, subivano veramente gravi vessazioni, ingiurie, subivano violenze di ogni genere e grazie alla nostra attività è stato permesso di appurare che effettivamente coloro che dovevano assistere, gli anziani, i nostri anziani invece non si curavano affatto di loro, tutt'altro non perdevano occasione per poterli ingiuriare e maltrattare.